Brista, adesso appoggiare anche la mia, fermo che è appoggiata neanche a farlo apposta riuscivi sarei mica stanco ecco basta siamo ucciulati, adesso uno cade e basta vai giù, vieni su manetta, terza manettone e basta ma tu non l'hai caricata, dopo ti sei seduto, appena hai perso che hai tirato fuori il piede che ti sei seduto l'hai persa, se stavi caricato vieni su vieni su, in un modo o nell'altro arrivi, ma non devi mai tirarvi i piedi oggi puoi fare tutto quello che vuoi e non ti si alza in piedi non si alza perché scivola, appena tu la scarichi scivola quindi non ti si alza appena punti cominci a scivolare, appena è passato la moto riprende ti butta giù spampi guarda eh, fermo guarda oh mi sono spaventato mi sono spaventato ho visto la tua faccia hai visto? gli vado su in faccia tutte e due ferme insieme se tu, se tu sei un sceco, vorrei colpa a me eh, però anche lui va di là ciao no, ma prendo un po' eh, ma la prima viste che bello orologio sei euro a tuo figlio gli hai tirato no no la mercato ha toccan tu no, quello nero è sei euro vieni via Seve che magari ti passa sopra via Seve se noi la facciamo così non ci arrivi neanche a metà troppo molle bravo, bravo tiri duro, tiri duro tiri duro tiri duro bravo hai visto come prende l'euro? bravo lui perde tanto lì e poi riprende lì si adesso